Allora, camicetta, rosa cipria, mai indossata, indossata una volta non lo sa nessuno, taglia S, 10 euro, anzi no, mettiamola 5 Ciao bellissima camicetta, posso vederla indossata? Certo, eccola qui, la prendi? Ma è una S che veste S o veste più grande, no? Perché voglio essere sicura che mi stia Io vesto S e come hai visto dalla foto mi sta perfetta, ok riesci solo a prendermi le misure da spalla a spalla, dalla scella alla manica e dalla spalla alla manica Ecco le misure che mi avevi richiesto, ok grazie mille la prendo, non ci mancherebbe altro di tutto sto casino che mi hai fatto fare Ciao scusa ci ho pensato bene, non voglio più prenderla e fammela vedere indossata e misura come una S o non come una S Prendimi la misura dalla spalla al colletto, dal colletto alla spalla e da tutte e due le spalle e poi non me la prendi? Carolina Marsiglia vuole acquistare la tua camicetta, Carolina Marsiglia, mi hai sbattato la giornata Allora vediamo qual è l'impost point più vicino a me per spedire il pacco, eccolo, perfetto Carolina, la tua camicetta sta per essere spedita Pacco spedito, adesso vediamo se trovo un vestito per la festa di Chiara Eccolo, è lui